Andiamo molto d'accordo, ma lui non fa alcuno sforzo. Allora, ci sono molte donne, malgascione o anche malgasce, malgascette, insomma, che si lamentano del fatto, sul tuo malgascione, però che si lamentano del fatto che hanno una relazione con un uomo, con il quale vanno molto d'accordo, però lui non fa alcuno sforzo. Non fa alcuno sforzo e di fatto non vuole impegnarsi, insomma. Ecco, quindi com'è che spingerlo ad impegnarsi? Perché, diciamoci la verità, per molte donne è molto frustrante essere in una relazione di coppia, provare sentimenti per il proprio partner, ma puoi vedere che quest'ultimo non fa alcuno sforzo e non dà l'impressione di investire di più. Beh, intanto, diciamo, ci sono alcune considerazioni preliminari da fare. La prima considerazione preliminare è quella che devi imparare a definire esattamente i tuoi obiettivi. Perché se non sai esattamente quali sono i tuoi obiettivi con quella persona, farai comunque poca strada. Diciamoci la verità, se tu vuoi ottenere dei risultati, devi spingere, devi spingere la persona a fare delle cose, devi spingere la persona a raggiungere, diciamo così, a fare magari anche delle cose che normalmente non farebbe. Però, ovviamente, deve essere una persona che ha idee, una visione della vita non totalmente diversa da tua, altrimenti non c'è verso. Diciamo che se la visione della vita è completamente diversa, totalmente diversa da tua, ma è difficile, insomma, che si possa trovare un accordo, è difficile che si possa trovare una situazione che possa andare bene, che possa andare bene. Questo mi sento di escluderlo. Quindi un minimo di, come dire, visione comune deve esistere, altrimenti fai prima meglio a cambiare persona, per evitare poi di perdere la cosa più importante che gli esseri umani di fatto hanno, che è il loro tempo. Perché se tu perdi il tuo tempo, se tu perdi, diciamo così, le cose che sono importanti, beh, farai di fatto poca strada, insomma. E quindi, come fare, come far sì che si impegni di più? Come far sì che metta lo sforzo? Allora, il fatto che andate molto d'accordo, ma che lui non metta sforzo, dipende essenzialmente da un fatto fondamentale, che sei tu che fai anche per lui. Quando una persona fa anche per un altro, e questo è la cosa più sbagliata che si può fare, non puoi mettere amore anche per un'altra persona. Non puoi mettere anche impegno per un'altra persona. Quindi devi cambiare atteggiamento, devi cambiare mindset, devi cambiare tipologia di comportamento, per, diciamo, per invertire, per intanto per comprendere la mentalità maschile, e poi invertire l'equilibrio di potere. Un uomo che non investe in te lo fa perché è convinto di avere il controllo su di te e sul fatto che tu sei coinvolta, sul fatto che tu sei innamorata. Non ha paura di perderti e si sente in posizione di forza. Per questo motivo non fa nessuno sforzo, per questo motivo non mette nessuna energia, per questo motivo non, diciamo, si impegna fondamentalmente. Il fatto di essere giudicata per acquisita, per sempre disponibile, per nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri, farà sì che quest'uomo, diciamo, non avrà, non sentirà davvero la minima esigenza di impegnarsi per te, non sentirà la minima esigenza di fare delle cose per te, non sentirà la minima esigenza di mettere sforzo, perché lo stai facendo già tutto tu. E come dire, perché devo portarmi un sacco sulle spalle di 50 chili quando c'è qualcuno che lo fa già per me? E non lo farò mai, o comunque molto raramente, insomma, diciamoci la verità. E questi equilibri devono essere invertiti. Quindi, ma prima devi invertire nella tua testa. Per far impegnare un uomo devi cambiare le tue abitudini. Devi iniziare a prendere distanza, distanza emotiva, cioè far vedere che non sei più interessata più di tanto, non hai più esigenze di volerlo a tutti i costi. Anzi, paradossalmente, lo spingi anche verso la tua... Perché non esci un po' con i tuoi amici, con le tue amiche? Lo spingi anche verso qualcun altro o qualcun'altra, facendoti vedere che sei distante emotivamente, distaccata, ma facendoti anche vedere che spazialmente sei distante, diciamo, che non sei interessata. E che sei... stai diventando un po' indifferente. ovviamente devi poi somministrargli la paura di essere lasciato, la paura di essere abbandonata, sfidandolo, essendo, diventando irreverente, facendo atti di coraggio. Ricordati che è only the brave, soltanto chi ha coraggio può ottenere dei risultati. Se tu non hai coraggio, difficilmente otterrai qualche risultato, anzi, sarà veramente poco probabile che tu possa ottenere qualunque risultato positivo se ti dimostri bisognosa, lagnosa, lamentosa e quindi devi lanciargli delle sfide. Devi... un uomo che sente che nulla è certo, che ha dei dubbi sul fatto che tu sia fedele, che ha dei dubbi sul fatto che tu possa essere innamorata, che ha dei dubbi sul fatto che tu, come dire, non lo possa lasciare, allora è certo che investirà, è certo che darà il meglio di sé per soddisfarti. Ovvio che la sfida deve essere quotidiana e devi metterla in atto sia quando ci sono incontri reali dal vivo, ma anche ovviamente quando ci sono non ci sono incontri dal vivo anche a distanza. Quindi è molto importante in questo modo invertire l'equilibrio di potere. In questo modo se girai in questo modo con irreverenza riuscirai a convincerlo senza fare niente ad impegnarsi perché sarà lui a cercare di capire come stanno le cose, sarà lui a cercare di capire che forse diciamo vale la pena metterci un po' più di energia se vuole ottenere dei risultati. Questo è un fatto che te lo posso garantire, è un fatto sicuro. Ecco, quindi che agendi in questo modo si manifesterà la magia, si verificherà veramente la magia quella dell'inversione, dell'inversione di tendenza e del fatto che piano piano inizierà a sentirsi più coinvolto con te, inizierà a sentirsi più innamorato di te e tu potrai ottenere insomma tutti i risultati importanti che vuoi ottenere da questo punto di vista e vedrai che lui inizierà a mettere sforzo, inizierà a mettere energia finalmente per poterti conquistare. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai finalmente diciamo così la notifica dei nuovi video, la campanellina, l'attivi e riceverai la notifica dei nuovi video.